Musica Siamo qui come casetta recida all'Outtaro perché qui in questa zona l'amministrazione comunale ha dato mandato di verificare la compatibilità ambientale tra questa zona che è uno storico luogo di sversamento di rifiuti tossici e una scuola per noi questa cosa è inaccettabile e irricevibile pensare che a pochi giorni da quando la procura nord di Napoli ha verificato il nesso tra sversamenti di rifiuti e tumori pensare che in una zona dove sono stati sversati per anni i rifiuti che non è ancora stata bonificata si possa costruire una scuola ci occorremo con tutte le nostre forze e quando andremo al governo della città il primo atto sarà immaginare un luogo idoneo dove costruire questa scuola in un luogo magari dove c'è qualche fabbricato dismesso da recuperare perché per noi è prioritario non consumare ulteriormente il suolo e mettere al centro l'agenda politica della città la cura del territorio e l'agenda verde dettata dall'agenda europea 2030 grazie 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 grazie